oggi in particolare tratteremo appunto delle funzioni del DEC del direttore dell'esecuzione del contratto negli appalti di forniture e servizi l'altra volta abbiamo completato diciamo quelle che sono le funzioni del RUP e adesso vediamo nel dettaglio quelle che sono le funzioni del DEC il rapporto con il RUP poi scenderemo anche nell'esame diciamo degli incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 2016 riguardano anche gli appalti di fornitura e servizi cerchiamo di fare un chiarimento su questo tenendo presente che la figura del DEC non è importante è indispensabile poi per ottenere diciamo questi incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche e alla fine esamineremo un piccolo caso e quindi insomma vedremo insieme che ovviamente riguarda le funzioni del DEC direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture di norma quindi è il responsabile unico del procedimento ma vedremo i casi in cui queste figure sono scisse soprattutto per i limiti di importo tenendo presente però che è facoltà della stazione appaltante nominare il direttore dell'esecuzione del contratto anche per gli appalti di importo inferiore diciamo a quello stabilito per cui la funzione di DEC è obbligatoria rispetto alla nomina di un DEC che sia soggetto diverso rispetto al RUP è obbligatorio appunto negli appalti di importo superiore a 500 mila euro e negli altri casi appunto previsti dalle linee guida dell'ANAC numero 3 quindi il direttore dell'esecuzione del contratto è diciamo l'alter ego del direttore dei lavori per i lavori pubblici e riguardo ovviamente gli appalti di servizi e forniture provvede diciamo al coordinamento alla direzione al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante quindi la cosa importante il DEC comincia il DEC la cui funzione diciamo è diciamo soprattutto negli appalti di servizi dove effettivamente c'è una verifica anche continua da fare e soprattutto per i servizi continuativi no per cui diciamo è una funzione importante e vedete riguarda tutta la fase di esecuzione del contratto quindi eh coordina dirige e controlla l'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali quindi diciamo che eh è la figura che eh porta avanti diciamo l'esecuzione vigila sulla corretta esecuzione del contratto attenzione però perché non lo fa in autonomia perché l'abbiamo detto anche l'altra volta ricordate il DEC è il dominus diciamo del del procedimento di appalto per cui comunque eh il DEC eh con un cambio diciamo anche di impostazione rispetto al precedente stesura del codice degli appalti deve comunque rapportarsi al RUP e e lui diciamo che eh che eh alla fine dirige tutto il procedimento e quindi anche la fase esecutiva ancorché il DEC abbia compiti specifici molto importanti nella fase di esecuzione ma deve sempre tenere presente che c'è un'altra figura al di sopra eh di lui che è il RUP e quindi deve sempre rapportarsi al RUP quindi mentre prima le due figure poi eh trovavano una una loro autonomia nel senso che eh nella fase nella fase di eh scelta del contraente era il RUP ovviamente che che svolgeva tutte le fasi eh procedimentali ma poi nella fase di esecuzione subentrava il DEC qui no qui rimane il RUP eh anche nella fase di esecuzione del servizio il DEC subentra ma con un ruolo ben preciso importante ma sempre ausiliario rispetto al RUP questo è molto importante chiarirlo perché è anche una questione di rapporti no tra tra DEC e RUP quindi questo è eh diciamo la questa è la premessa occorre chiarire questo il RUP rimane la figura di riferimento di tutto il procedimento eh di di appalto dalla fase appunto abbiamo visto della eh indizione della gara o dell'affidamento eccetera fino alla fase diciamo di esecuzione del contratto con un ausilio importante che gli deriva da una figura che negli appalti di lavori pubblici è una figura consolidata esiste da anni eccetera ed è il direttore dei lavori mentre negli appalti di fornitura e servizi soprattutto di servizi laddove c'è eh servizi continuativi laddove c'è questa esigenza no di avere eh una una vigilanza continua sulla corretta esecuzione del servizio abbiamo questa figura del direttore dell'esecuzione del contratto che però è una figura ausiliaria rispetto al RUP ancorché importante perché prende anche in autonomia delle decisioni ma poi deve rapportarsi sempre al RUP quindi vedete il DEC riceve da RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio della fornitura quindi vedete l'orientamento sulla corretta esecuzione del servizio la dà sempre il RUP quindi il direttore dell'esecuzione eh è diciamo è un esecutore ovviamente ha un'autonomia nello svolgimento concreto chi svolge le funzioni di DEC lo sa che poi eh soprattutto nei servizi eh continuativi che possono essere pulizia o assistenza tecnica o altro è un continuo no di di soluzioni di cerca di soluzioni eh a problemi che che sorgono quotidianamente e quindi eh il RUP stabilisce anche la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione del contratto è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto questo è eh normale perché naturalmente eh uno degli adempimenti molto importanti cui è tenuto il DEC è proprio quello di informare costantemente il RUP poi vedremo anche con con relazioni eh e e soprattutto con con rapporti no sull'andamento rapporti periodici ovviamente sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente in partita da RUP possono anche non esserci potrebbero anche non esserci il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento alla direzione al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto quindi dovete immaginare che il RUP è come abbiamo detto il dominus e quindi detta lui le linee no? Come va seguito il servizio come eh va esercitata la funzione di controllo di vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio ma nell'ambito di queste linee e poi il direttore dell'esecuzione del contratto che opera in autonomia quindi in ordine ovviamente alle all'esecuzione concreta no? Alla a controllo concreto alla direzione concreta dell'esecuzione del contratto quindi è un diciamo un rapporto un trovare un bilanciamento eh tra le due figure ma partendo da questo presupposto che è il RUP diciamo che che è la figura dominante eh anche nella fase di esecuzione del contratto. Eh quando entrerà in vigore il regolamento di esecuzione del codice dei contratti eh lo aspettiamo oramai sono quasi tre anni perché eh con lo sblocca cantieri eh il legislatore ha fatto un passo indietro no? E quindi è tornato all'antico prevedendo eh l'emanazione eh del regolamento unico di esecuzione no? Che dovrebbe prendere il posto no? Di di tutti i vari decreti ministeriali di tutte le linee guida dell'ANAC eh e quindi andrà a disciplinare anche eh si andrà a disciplinare anche con questo regolamento di esecuzione le modalità di effettuazione dell'attività di controllo le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale molto importante perché è una prerogativa del DEC la relativa tempistica nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità quindi eh la disciplina concreta di quella che sarà l'attività di quella che è l'attività del DEC eh sarà definita proprio da questo regolamento di esecuzione ripeto lo stiamo aspettando oramai da dal 2019 dall'entrata in vigore dello sblocca cantieri il decreto legge 32 del 2019 convertito nella legge 55 del 2019 ma allo Stato ancora non è entrato in vigore e eh tenete presente che invece eh nelle altre occasioni eh per esempio l'oceano 63 del 2000 del 2006 pure sono passati degli anni ma meno anni rispetto a questi perché eh lì abbiamo avuto il DPR 207 del 2010 dopo quattro anni dall'entrata in vigore del codice degli appalti qui gli anni eh sono diventati praticamente sei dall'entrata in vigore del codice degli appalti tra poco sarà eh diciamo aggiornato perché sapete ogni dieci anni c'è il cambio della direttiva comunitaria e quindi dovrà essere aggiornato e già eh previsto diciamo un aggiornamento del del codice degli appalti quindi attraverso una nuova delega al governo quindi è continua evoluzione e siamo costretti a inseguire sempre le novità normative. Nell'emore dell'approvazione del regolamento di esecuzione al codice degli appalti resta in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 49 del 7 marzo del 2018 il regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni eh di del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione quindi eh questo eh questo decreto in effetti fissa eh già appunto le linee guida e quindi ovviamente eh tutto quello che eh tutto buona parte insomma di quello che eh leggerete di cui parleremo eh prossimamente è e soltanto quello che è indicato in questo decreto eh ministeriale. Ecco per quanto riguarda la nomina del direttore di esecuzione del contratto qui già possiamo individuare una novità importante quindi vedete la stazione appaltante nomina il direttore su proposto del RUP e questo non fa altro che confermare quello che dicevo prima sul fatto che è il RUP no che che ovviamente ha il diciamo il controllo di tutta la situazione procedimentale anche nella fase di esecuzione individuandolo quindi il direttore di esecuzione del contratto tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto quindi vedete eh a differenza del RUP non abbiamo diciamo proprio una fissazione precisa dei requisiti che deve possedere il il DEC ma abbiamo un riferimento al possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto chiaro che il DEC svolge delle funzioni ehm diciamo minori rispetto al RUP che invece deve avere competenze sicuramente più ampie DEC eh stiamo parlando di una figura che eh realizza eh controlla vigila eh il corretto andamento dell'esecuzione dell'appalto eh di servizi e fornitura per cui eh diciamo è eh deve essere in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenze in relazione all'oggetto del contratto senza diciamo però quella quella rigida eh previsione che invece è prevista la linea guida ANAC numero tre ma attenzione perché eh diciamo eh c'è una novità importante perché vedete eh dove è scelto dove è individuato eh il direttore di esecuzione dei contratti. Innanzitutto dal dal personale della stazione appaltante e questa è la prima cosa anche per esempio dal eh nel personale di un'altra stazione appaltante mediante stipoli apposita convenzione io non ho una figura professionale idonea nel mio personale tra il mio personale e quindi stipulo una convenzione con un'altra stazione appaltante per eh far svolgere le funzioni di DEC a eh un dipendente appunto di un'altra eh amministrazione e attenzione professionisti esterni individuati ex articolo 31 comma 8 del codice quindi il direttore dell'esecuzione del contratto a differenza del RUP come abbiamo visto l'altra volta può essere scelto anche tra i professionisti esterni quindi questa è una cosa molto molto importante che naturalmente agevola il compito delle delle amministrazioni delle stazioni appaltanti vediamo quelle che sono le incompatibilità poi del direttore di esecuzione del contratto quindi vedete in applicazione di quanto previsto dall'articolo quarantadue del codice e al fine di evitare situazioni di incompatibilità il DEC non può accettare dal momento della giudicazione fino alla verifica di conformità nuovi incarichi dall'impresa affidataria e questo è è normale insomma quindi è chiaro che bisogna evitare situazioni di incompatibilità per cui nel momento in cui è stato nominato e fino alla verifica di conformità che segna la fine praticamente del suo mandato il DEC non può accettare nuovi incarichi dall'impresa affidataria ed anzi una volta conosciuta l'identità della giudicataria il DEC deve segnalare l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso al fine di permettere una votazione discrezionale da parte della stazione appaltanti quindi attenzione questo va tutto nei casi ovviamente che il DEC sia individuato in un professionista esterno e allora è fondamentale che questi una volta conosciuta l'identità della giudicatario segnali l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso al fine di permettere una votazione discrezionale da parte della stazione appaltanti e a tal fine è buona regola e buona prassi far firmare diciamo al DEC una eh dichiarazione di assenza e di incompatibilità e di conflitto di interessi con la ditta a giudicatario veniamo appunto a abbiamo detto che il RUP generalmente coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto ma eh le linee guida ANAC numero tre al paragrafo eh dieci due prevedono eh alcuni casi in cui obbligatoriamente il direttore dell'esecuzione del contratto è un deve essere un soggetto diverso da RUP il caso più importante il limite più importante è sicuramente un limite di importo perché eh il DEC deve essere soggetto necessariamente obbligatoriamente diverso da RUP in caso di prestazioni di importo superiore a cinquecentomila euro quindi in questi casi non ci può essere coincidenza tra RUP e DEC altri casi in cui pure eh ci deve essere una scissione diciamo tra queste due figure riguardo gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico quindi anche in questo caso ci deve essere una scissione con tutta però poi la difficoltà di andare a individuare quali sono questi interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ma sapendo eh e l'abbiamo visto anche le altre volte che c'è eh un margine di discrezionalità molto ampio della stazione appaltante nell'individuare questi casi perché è una valutazione connotata da discrezionalità tecnica per la quale diciamo il giudizio è praticamente quasi insindacabile se non per manifesto errore manifesta irragionevolezza eccetera per cui eh è vero che eh diciamo la la disposizione delle linee guida ANAC numero tre abbastanza generica però altrettanto vero che la scelta della pubblica amministrazione è connotata da ampia discrezionalità perché trattasi di un giudizio di carattere tecnico e quindi eh la discrezionalità è tecnica e quindi diciamo quasi insuperabile nella valutazione dell'amministrazione. Altra eh altro caso in cui non possono coincidere le due figure è quello di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze per esempio servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto pulizie ristorazione sterilizzazione vigilanza eh socio sanitario supporto informatico ecco in tutti i casi in in cui eh la esecuzione dell'appalto richiede l'apporto di una pluralità di competenze e allora necessariamente il RUP da solo non può farcela e quindi la stazione appaltante deve fare una valutazione anche su questo e passare alla nomina anche del DEC. Altro caso si tratta di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi eh o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Quindi anche in questo caso quindi vedete quando l'appalto è caratterizzato all'utilizzo di eh processi produttivi innovativi o componenti o componenti innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni allora sorge anche in questo caso eh la eh necessità e quindi l'obbligo di nominare un DEC che sia distinto e questi casi pensate eh non riguardano limiti d'importo eh quindi mentre il primo caso è diciamo è più eh facilmente individuabile quando parliamo di prestazioni d'importo superiore a 500 mila euro gli altri casi ovviamente sono individuati con un giudizio eh caratterizzato da ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella maggior parte dei casi da discrezionalità tecnica nei casi eh soprattutto B e D. Per quanto riguarda l'ultimo caso le due figure appunto eh vanno scisse per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento ecco quindi vedete eh quando ci sono ragioni che eh riguardano l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da cui da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento allora c'è la necessità anche eh di eh individuare una figura diversa e quindi anche questa è caratterizzata da eh di diversa rispettatura e anche questa scelta è caratterizzata da ampia eh discrezionalità da parte della della stazione appaltante quindi diciamo che eh abbiamo diciamo un eh un limite che è invalicabile no a quello dei 500 mila euro quando l'appalto è di importo superiore a 500 mila euro necessariamente obbligatoriamente eh le figure di DEC e RUP non possono coincidere devono essere due soggetti diversi negli altri casi eh può essere invece lo stesso soggetto invece può essere comunque anche negli altri casi anche al di sotto eh dei eh 500 mila euro eh un soggetto diverso quando abbiamo interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico quelli che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze quelli caratterizzati all'utilizzo di componenti o di processi eh innovativi o eh la necessità di elevate prestazioni o per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante ecco quindi qua anche quando siamo al di sotto dei 500 mila euro laddove eh intervengono diciamo eh queste casistiche e allora obbligatoriamente il naturalmente individuata la stazione appaltante quindi abbiamo visto con esercizio di ampia discrezionalità ovviamente le due figure devono essere diverse quindi i soggetti che ricoprono la carica di RUP e il direttore di esecuzione del contratto devono essere obbligatoriamente diversi. Per quanto riguarda l'avvio dell'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione sulla base sempre delle disposizioni del RUP quindi sempre tenendo presenti quelle che sono le disposizioni del RUP dopo che il contratto è divenuto efficace. Quando è che il contratto diviene efficace? Quando eh è stata eh superata positivamente la fase di verifica no dei requisiti eh sia quelli generali di cui è l'articolo ottanta sia quelli eh tecnico professionali eh economico finanziari previsti dall'articolo ottanta tre quindi dopo che il contratto è divenuto efficace e il direttore dell'esecuzione ma sempre sulla base delle disposizioni del RUP che dà avvio all'esecuzione della prestazione quindi fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie ovviamente nel rispetto diciamo di quelle che sono le disposizioni del RUP e redigendo laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni apposito verbale firmato anche dall'esecutore nel quale sono indicati quindi eh è importante il primo atto diciamo per l'esecuzione vengono indicate dal direttore di esecuzione del contratto tutte le direttive necessarie per l'esecuzione dell'attività vediamo diciamo quali sono sono indicati in questo processo verbale le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività quindi è una diciamo indicazione che deve essere fornita la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltare quindi questo deve essere eh indicato nel processo verbale che è da inizio all'esecuzione dell'appalto chi lo firma il processo verbale lo firma il DEC quando il direttore d'esecuzione ordina l'avvio l'esecuzione del contratto in via d'urgenza perché è possibile che come naturalmente tutti gli appalti peraltro eh con la normativa derogatoria l'abbiamo visto non c'è nemmeno bisogno più di motivare eh l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza perché lo ha fatto il legislatore vi ricorderete che l'articolo trentadue prevede eh dei casi in cui eh si possa la stazione appaltante possa avviare il contratto l'esecuzione del contratto in via d'urgenza che sono casi caratterizzati dall'urgenza dalla esigenza di salvaguardare un interesse pubblico i vi compreso i vi compresa diciamo la eh la che la perdita di finanziamenti comunitari quindi per per fare presto eh per evitare diciamo la perdita di finanziamenti comunitari adesso invece con il settantasè del duemilaventi convertito nella legge centoventi del duemilaventi abbiamo eh il legislatore che fino al trenta giugno duemilaventieri ha detto che se sempre si può eseguire il contratto in via d'urgenza l'urgenza sarà indicata il il legislatore e e deriva dal fatto di dover dare la maggiore snellezza e la maggiore velocità possibile alle procedure di appalto proprio per eh venire in conto alle esigenze degli operatori economici in questo periodo di crisi non solo sanitaria ma anche economiche quindi eh qua in questi casi quando il contratto è eh avviato in via d'urgenza il direttore dell'esecuzione nel processo verbale di consegna indica le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire quindi chiaramente non abbiamo ancora il contratto che eh mette in fila diciamo una serie di prestazioni allora in quel caso diventa fondamentale ed è un riferimento il eh processo verbale il verbale diciamo eh di avvio dell'esecuzione del contratto perché quando c'è l'esecuzione in via d'urgenza il DEC deve indicare immediatamente in quel verbale quali sono le prestazioni che hanno la priorità che quindi l'esecutore deve immediatamente eseguire veniamo all'esercizio dei controlli diciamo da parte del del DEC quindi ai sensi dell'articolo 31 comma 12 quindi vediamo che cosa dice la norma del decreto legislativo 50 del 2016 il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante eh sull'esecuzione delle delle prestazioni programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa nonché verifiche a sorpresa ecco quindi vedete qui abbiamo diciamo eh nella nell'esercizio della funzione del controllo vedete torna un po la eh il principio di gerarchia no perché vedete eh ovviamente quando parliamo di RUP parliamo di DEC non parliamo di gerarchia parliamo di di funzioni no da da svolgere l'ambito procedimento di appalto ma non dimentichiamo che queste funzioni sono svolte all'interno di un ufficio quindi un di un di un settore di un di un servizio insomma di un dipartimento quindi di una direzione per cui è chiaro che c'è un appunto un soggetto responsabile un direttore un dirigente eh che eh diciamo eh deve anche dire la sua no per quanto riguarda le modalità attraverso le quali garantire il controllo effettivo della stazione appaltante soprattutto programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa nonché verifiche anche a sorpresa quindi detta le modalità il codice degli appalti ma assegna un ruolo diciamo giustamente eh importante anche al dirigente diciamo della struttura che eh individua quali sono le migliori modalità e programma anche accessi diretti del RUP eh o anche del direttore dell'esecuzione del contratto nonché attenzione verifiche anche a sorpresa quindi la valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corrisponzione degli incentivi di cui l'articolo 113 quindi attenzione perché è lo stesso codice degli appalti che poi eh attribuisce un valore positivo eh anche anche ai fini economici vale a dire i che incidono sulla corrisponzione degli incentivi di cui l'articolo 113 che vedremo che vedremo dopo sull'attività di controllo quindi svolgere l'attività di controllo svolgerla bene eh incide anche sulla corrisponzione poi degli incentivi di cui l'articolo 113 perché è un presupposto eh per eh appunto l'ottenimento di questi incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche. possono anche eh individuarsi degli assistenti del del DEC infatti vedete ai sensi dell'articolo 101 comma 6 del BIS del decreto legislativo 50 del 2016 per i servizi e le forniture di particolare importanza perché altrimenti non avrebbe senso ovviamente eh costituire diciamo una una piccola squadra per l'esecuzione del contratto la stazione appaltante su indicazione del direttore dell'esecuzione può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione. quindi veramente eh diciamo nei casi in cui l'appalto è più complesso e ci sono casi soprattutto i servizi continuativi dove effettivamente pensate diciamo un servizio di pulizie o appunto l'assistenza tecnica eccetera e allora diciamo si può anche nominare un assistente del direttore dell'esecuzione dell'esecuzione. L'articolo 16 comma 4 del decreto ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti 49 del 2018 poi precisa che la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche su indicazione del direttore dell'esecuzione sentito il RUP può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per quadruvare il direttore dell'esecuzione. Quindi eh quando sale ancora il livello no eh non solo di particolare importanza dei servizi e forniture ma anche servizi eh connotati da particolari caratteristiche tecniche e tecniche e allora oltre al direttore la figura del direttore dell'esecuzione del contratto può essere anche il RUP può il RUP può nominare anche addirittura uno o più assistenti con funzione di direttore operativo. Quindi abbiamo anche questa questa duplice poi figura no? Per quadruvare il direttore dell'esecuzione. Quindi abbiamo veramente si forma una scala vedete gerarchica quasi eh ancorché caratterizzata dalla funzionalità del dell'incarico eh tra RUP, DEC, direttore operativi e assistenti. Quindi vedete veramente abbiamo una filiera proprio di di competenze nell'ambito del della della controllo sulla corretta esecuzione del del contratto. Vediamo quali sono gli strumenti per l'attività di controllo del DEC. Quindi innanzitutto abbiamo detto il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio. Questa è l'abbiamo detto quindi autonomia del DEC nello svolgimento delle funzioni di controllo ma attenzione nel rispetto di quelle che sono le disposizioni carattere generale eh fornite dal RUP. Quindi ordini di servizio nei quali il direttore dell'esecuzione del contratto impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie per l'esecuzione del contratto. Queste eh questi ordini di servizio devono riportare nella loro forma scritta sinteticamente le ragioni tecniche e le finalità perseguite sulla base di quell'ordine del servizio e devono essere comunicati al RUP. Quindi vedete eh c'è un collegamento continuo tra DEC e RUP. Quindi il il DEC deve costantemente informare il RUP. Autonomia ma deve costantemente informare il RUP riguardo allo svolgimento della sua attività. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi poi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio del DEC fatta salvo ovviamente la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Sapete che quando la eh diciamo l'appaltatore non è d'accordo con eh con diciamo quanto gli viene imposto eh deve eh diciamo far iscrivere le proprie riserve quindi sarebbero le proprie contestazioni le proprie eccezioni appunto nel registro dove vengono indicate eh le riserve le deve comunicare per iscritte e queste devono essere ovviamente inserite appunto nel diciamo nei documenti di gara. Gli ordini di servizio del DEC devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza quindi attenzione anche a questo passaggio procedimentale perché poi eh magari eh ripeto eh diciamo possono esserci eh contestazioni e quindi le contestazioni in futuro possono riguardare anche il fatto non ho ricevuto l'ordine di servizio quindi sempre la firma per avvenuta conoscenza dell'ordine di servizio da parte del rappresentante della ditta appaltatrice fatte salve ovviamente eventuali contestazioni con iscrizione di riserva. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento dei fatti quindi oltre agli ordini di servizio poi quando ci sono fatti che 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 naturalmente nel corso di esecuzione del contratto che meritano di essere eh oggetto di ehm accertamento di fatti non so pensate una modalità di esecuzione del contratto eccetera una e quindi si individua magari anche con con l'appaltatore quella che è la modalità si fa il processo verbale anche per evitare poi future contestazioni eh si eh e e questi verbali eh sottoscritti da DEC e da appaltatore devono essere inviati al RUP comprese le relazioni ovviamente eh per il RUP medesimo. Per quanto riguarda le funzioni di controllo del DEC le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare quelli che sono i seguenti profili quindi innanzitutto la qualità del servizio della fornitura quindi come deve essere svolta che cosa io DEC devo andare a verificare quando vado appunto a occuparmi del controllo della prestazione allora io devo stare attento a tutti questi profili e non sono pochi quindi innanzitutto la qualità del servizio o della fornitura intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta se ovviamente sono state prodotte le condizioni migliorative nell'offerta eh di gara quindi molta attenzione alla qualità del servizio quindi rispetto agli standard qualitativi richiesti nel contratto nel capitolato speciale di appalto il DEC deve poi individuare l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati appunto con l'assipo del contratto il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna quindi è un altro degli aspetti che deve valutare il DEC l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e attività svolte che deve svolgere eh l'appaltatore così come il DEC è tenuto a rapportare la propria attività al RUP anche l'appaltatore è tenuto a rapportare la propria attività al DEC e quindi deve valutare anche l'adeguatezza proprio della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte la soddisfazione diciamo del cliente o dell'utente finale come chi è l'utente finale spesso l'utente finale non è un esterno sta sempre dentro l'amministrazione quindi sono i vari servizi pensate all'assistenza tecnica ne ho fatto parte ne faccio parte eh tante volte la cosa importante è che gli uffici no eh i singoli uffici eh rispetto ai quali si eh svolge l'attività di assistenza tecnica siano soddisfatti proprio del di quel servizio prestato no quindi è questo eh eh questa questa verifica deve farla il direttore dell'esecuzione del contratto quindi deve andare a eh verificare all'interno degli uffici dell'amministrazione se effettivamente quel servizio viene svolto la stessa cosa la pulizia insomma e altro eh se quel servizio appunto viene svolto eh con eh con diciamo con soddisfazione rispetto al diciamo agli utenti finali che appunto sono eh i stessi funzionari dirigenti eh di della di quell'amministrazione deve poi andare a verificare il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale quindi attenzione anche al rispetto di questi obblighi obblighi in materia ambientale in materia sociale e del lavoro quindi sicurezza sul lavoro eccetera quindi eh vedete sono tutti i compiti molto delicati nella fase di esecuzione nemmeno eh assolutamente facili il controllo del DEC poi è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto quindi vale per tutta la fase di esecuzione del del contratto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità sulla base di parametri oggettivi non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte quindi vedete richiamo che c'è spesso alla verifica della della qualità la misurazione della qualità è importante perché eh diciamo deve il DEC verificare attraverso tutte quelle cose che abbiamo visto no quindi la la customer satisfaction diciamo del 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 servizio attraverso la verifica eh dei propri uffici se sono soddisfatti dallo svolgimento di quel servizio il raggiungimento di determinati parametri quali può essere per esempio la la reportistica consegnata nei tempi stabiliti dal contratto o eh comunque la consegna di output pensate eh diciamo nei nei tempi eh stabiliti appunto dal dal contratto insomma deve fare una verifica continua sulla qualità della della prestazione gli esiti del controllo devono poi risultare da apposito processo verbale quindi nel momento in cui effetto questo controllo che è periodico e allora tutto questo deve essere eh deve risultare da apposito processo verbale poi trasfuso in una relazione il direttore di esecuzione poi deve segnalare tempestivamente a RUP eventuali ritardi disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali quindi attenzione perché eh qualora ci siano questi ritardi che capita spesso disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali e il DEC lo deve segnalare e anche tempestivamente a RUP anche al fine di consentire a RUP l'applicazione delle penali inserita nel contratto ovvero addirittura della risoluzione del contratto stesso per inalempimento nei casi consentiti che ovviamente sono i casi più bravi quindi vedete è costante il rapporto poi tra DEC e RUP è costante l'azione informativa che deve attivare il DEC nei confronti del RUP sull'andamento del contratto non solo per quanto riguarda l'aspetto qualitativo ma anche di segnalazione tempestiva di quelli che sono ritardi disfunzioni o inadempimenti che possono comportare da parte del RUP poi perché lui che lo fa l'applicazione delle penali inserita del contratto addirittura possa poi procedere alla risoluzione del contratto stesso che cosa succede per il subappalto no quindi con riferimento eh alle prestazioni affidate in subappalto ci sono una serie di verifiche poi specifiche che il DEC deve effettuare nel caso appunto di subappalto no quindi con riferimento a nel caso di subappalto il direttore dell'ese che vi ricordo abbiamo visto l'altra volta è cambiato no nella dal primo novembre del duemilaventuno non sono più previsti in linea generale i limiti percentuali eh per l'affidamento di subappalto in questo caso il direttore dell'esecuzione nel caso in cui si è subappalto svolge le seguenti funzioni attenzione perché questo è specifico e quindi verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori quindi attenzione perché c'è la verifica da parte del DEC della presenza del luogo sul luogo dell'esecuzione del contatto delle imprese subappaltatrici autorizzate nonché anche dei subcontraenti che non sono subappaltatori quindi anche il caso che ci siano eh subcontraenti che non rientrano nell'ambito del subappalto controlla poi che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate e quindi eh c'è un'azione di controllo anche non solo di verifica della presenza registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione questo è molto importante soprattutto a seguito della modifica che è intervenuta di recente appunto della normativa con il decreto legge settantasette del 2021 convertito nella legge centotto del 2021 perché perché adesso rispetto al passato abbiamo una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore questo che cosa significa significa che eh se il subappaltatore svolge la propria prestazione in maniera non corrispondente a tutti quelli che sono i canoni della corretta esecuzione del contratto ma anche i canoni qualitativi e ne paga anche il l'appaltatore il quale interesse quindi a far sì che eh a prendere le distanze no dalla eh a far sì che il subappaltatore esegua la sua prestazione al meglio e quindi eh sempre più di frequente potremmo avere i casi eh in cui eh c'è l'appaltatore che contesta all'esecutore eh che contesta al subappaltatore la regolarità delle delle prestazioni e lo spinge no a invece a effettuare la sua eh prestazione in maniera corrispondente a quello che è l'oggetto della prestazione e questo deve essere naturalmente portato a conoscenza del DEC e questo ripeto è importante perché con la nuova normativa abbiamo una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti dell'amministrazione non è più come prima laddove ne risponde solo eh il eh diciamo il l'appaltatore ne risponde ripeto anche il subappaltatore per cui questo è un caso che potremmo avere diciamo sempre 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 più spesso provvede poi senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore alla segnalazione a RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui è l'articolo centocinque del codice sul subappaltatore quindi è una verifica vedete addirittura eh molto tempestiva addirittura entro le ventiquattro ore una verifica tutto tondo eh che eh deve eh deve eh deve deve fare eh in caso di inosservanza eh la segnalazione a RUP che il DEC deve fare in caso di inosservanza da parte dell'esecutore delle di tutte le disposizioni contenute nell'articolo centocinque che è l'articolo ovviamente di riferimento per l'applicazione del subappalto per quanto riguarda le modifiche contrattuali il direttore dell'esecuzione del contratto propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione è lui che ha il polso della situazione quindi vedete questo è anche corrispondente diciamo a quello che eh prevedono le norme per cui eh eh è il direttore dell'esecuzione che eh propone a RUP le ovviamente come sapete più delle volte le le proposte di modifica eh derivano anche dal dalla stazione dal dall'esecutore ma diciamo eh per individuare delle modalità migliori è il direttore dell'esecuzione che può anche eh in ogni caso è lui che decide quali sono le modifiche da apportare per il miglioramento dell'esecuzione del contratto quindi eh propone vedete a RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione quindi con l'applicazione dell'articolo centosei del codice degli appalti indicando dei motivi in apposita relazione nei casi e alle condizioni previste dall'articolo centosei del codice quindi l'articolo centosei è quello che tratta delle modifiche contrattuali. Il direttore dell'esecuzione poi risponde delle conseguenze derivanti dall'avere ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali quindi attenzione perché nella nel la verifica nel controllo diciamo continuo quotidiano si deve anche stare molto attenti a che il rapporto prosegua in piena corrispondenza a quelle che sono le previsioni contrattuali senza che l'esecutore di fatto possa attuare delle modifiche contrattuali senza averne ottenuto la regolare autorizzazione quindi perché in questo caso se ciò avviene sarà il direttore dell'esecuzione a risponderne quindi attenzione perché questo è un aspetto molto delicato e conseguenze che possono essere diciamo le più disparate qualora derivino da interventi a meno che ripeto non derivino diciamo queste modifiche contrattuali da interventi volte ad evitare danni gravi alle persone alle cose o ai beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltare quindi ne risponde il DEC a meno che diciamo queste modifiche non siano intervenute proprio per allo scopo di evitare danni gravi a persone o cose o beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltare quindi questa può essere diciamo la l'unica giustificazione perché la regola è che il contratto deve essere eseguito correttamente senza deviazioni senza deroghe che se attuate di fatto e poi sono mantenute e quindi comportano possono comportare una responsabilità del DEC in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso quindi qualora il DEC si accorga che effettivamente l'esecutore sta ponendo in essere delle modifiche di fatto all'esecuzione del contratto rispetto a quello previsto appunto dalle norme contrattuali e allora immediatamente deve intervenire e deve indicare all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria con la corretta esecuzione del contratto eventualmente anche con spese a carico dello stesso fornitore o prestatore di servizi altra funzione importante da parte del DEC quindi vedete è piena l'attività perché in effetti diciamo è vero che il RUP è il dominus ma è altrettanto vero che sul campo ci sta il DEC quindi sono molteplici veramente diciamo questo presuppone diciamo il fatto di seguirla diciamo quotidianamente no quelle che quelle che sono queste prestazioni quindi è un altro aspetto importante riguarda la variazione dei prezzi eventuale variazione dei prezzi quindi le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto ma se nei casi in cui ovviamente all'esenzio dell'articolo 106 questo è possibile quindi ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e quindi dobbiamo fare una modifica si provvede alla formazione di nuovi prezzi quindi dobbiamo dare per scontato ovviamente che siamo nel campo delle ipotesi di variazione dei prezzi o di variazione contrattuale quindi con una variante una modifica contrattuale e quindi in questi casi nei casi previsti dall'articolo 106 ci potrebbero anche essere valutazioni di nuovi prezzi da chi sono valutati questi nuovi prezzi dal DEC come sono valutati questi nuovi prezzi sono valutati ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto quando si è impossibile l'assimilazione parliamo di servizi quindi non abbiamo il prezzario delle opere pubbliche che abbiamo invece nei lavori quando si è impossibile l'assimilazione ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore e approvate da RUP quindi praticamente si ricavano questi prezzi da nuove analisi effettuate quindi avendo ovviamente sempre a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta e quindi questi devono essere ovviamente approvati attraverso un contraddittorio a tre tra direttore dell'esecuzione e esecutore e poi a due scusate ma poi approvati da RUP ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico i prezzi ma sempre nei casi in cui questo è possibile previsti dall'articolo 106 cioè quando siamo stati previsti prima prevista prima diciamo nel nel contratto la variazione dei prezzi i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta di RUP quindi nuovi prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta di RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base dei detti prezzi ma attenzione però perché qui siamo nell'ambito di una anche una scelta negoziale perché qualora diciamo si tratti di nuovi prezzi ma sulle prestazioni che sono già previste e allora l'aumento dei prezzi è previsto nel contratto ma il nuovo prezzo fissato all'amministrazione può non essere accettato dalla dall'esecutore che cosa succede in questi casi e allora qui e questo è il caso più spinoso perché perché in questo caso l'esecutore non accetta i nuovi prezzi soprattutto pensate a diciamo a casi che avvengono anche oggi dove il costo delle materie prime è aumentato tantissimo e quindi in questo caso l'esecutore può iscrivere riserve appunto negli atti contabili ove non lo faccia però i prezzi si intendono definitivamente accettati meno diciamo problematico è l'altro caso cioè nel caso di nuove prestazioni e nuovi prezzi che non erano previsti in caso di variante perché se l'esecutore non l'accetta diciamo la stazione appaltante per quelle variazioni può anche risolvere il contratto diciamo non è il contratto si può anche risolvere il caso più spinoso riguarda proprio quando c'è soltanto una variazione di prezzi rispetto a quelli vissati nel contratto variazione che era stata prevista nel contratto e i nuovi prezzi non sono accettati dall'esecutore allora qui il rapporto deve andare avanti ovviamente e però diciamo c'è il rischio poi che si attivi un contenzioso il direttore dell'esecuzione può anche disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale quindi quando non c'è un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale allora queste sono modifiche soltanto di dettaglio che può adottare direttamente il direttore dell'esecuzione del contratto comunicandole sempre però al RUP perché il RUP deve essere sempre informato di quello che accade nell'esecuzione del contratto abbiamo detto per quanto riguarda le riserve in caso di contestazioni in sorte in relazione agli aspetti tecnici che influiscono sull'esecuzione del contratto il DEC redige in contraddittorio quindi quando ci sono contestazioni in ordine anche agli aspetti tecnici che influiscono sull'esecuzione del contratto il DEC redige in contraddittorio con l'impresa un processo verbale delle circostanze contestate quindi eh la modalità proprio di fissare no eh quello che avviene nell'ambito esecuzione dell'appalto è il processo verbale il verbale no dove appunto si verbalizzano eh quelle difficoltà che eh le difficoltà che intervengono e anche eh le contestazioni che poi intervengono in diverso punto di vista chiamato come come volete da parte di amministrazione e esecutore del contratto e in questo caso va eh il DEC deve provvedere appunto a redigere un verbale di queste circostanze eh contestate qualora addirittura il rapporto diventi conflittuale e manchi l'impresa che naturalmente deve essere stata convocata dal DEC il verbale viene redatto dal DEC direttamente in presenza dei tuoi testimoni e poi inviato all'impresa stessa la quale può svolgere le sue contestazioni entro otto giorni quindi anche c'è anche la modalità qualora effettivamente già si sia attivato un cortocircuito tra impresa e amministrazione di che il DEC svolga diciamo questa queste sue contestazioni attraverso la reazione del processo verbale con la presenza però di due testimoni processo verbale viene poi inviato all'impresa stessa la quale diciamo può svolgere anche a distanza le contestazioni di quanto eh rispetto a quanto eh contestato e contenuto nel processo verbale entro otto giorni in caso di mancanza di osservazioni da parte dell'impresa le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate quindi una sorta diciamo di silenzio assenso anche da parte dell'impresa esecutrice. Il direttore dell'esecuzione del contratto abbiamo visto interviene a potere diciamo anche ehm su tutta su tutti eh diciamo le su tutte le situazioni che possono riguardare l'esecuzione del contratto anche quelle che possono comportare la sospensione del contratto quindi il direttore l'esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione indicando le ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate nel verbale da compilare e inoltrare a RUP sempre una cosa così importante eh qualora si individuano delle ragioni di sospensione e allora queste devono essere attestate sempre nel verbale da parte del DEC ma poi devono essere sempre inoltrate al RUP. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dell'esecuzione lo comunica a RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Quindi sono eh situazioni di fatto che vanno comunicate da RUP e il RUP poi che decide diciamo eh eh se e quando riprendere eh l'esecuzione del contratto indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata da RUP il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Poi il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale a RUP entro cinque giorni dalla data della relativa relazione. Quindi vedete anche nella fase eh di sospensione c'è uno stretto una una stretta interrelazione tra DEC e RUP. Questi ordina la sospensione eh il DEC ordina la sospensione eh il DEC ordina la sospensione dell'esecuzione e il RUP invece che ordina la ripresa della esecuzione indicando anche il nuovo termine contrattuale. E il DEC che esegue questa ripresa eh del contratto attraverso un un verbale che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore che lo e lo trasmette al eh RUP. Quindi vedete eh è una interrelazione continua tra le due tra le due figure. Controllo eh altra parte importante diciamo del della funzione di DEC è il controllo amministrativo contabile quindi come stanno andando stanno andando i pagamenti diciamo le domande di pagamento l'approvazione eccetera. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura attraverso la tenuta della contabilità del contratto. Quindi eh eh diciamo deve sempre monitorare quello che è l'andamento della spesa del contratto compilando con precisione e tempestività i documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti di spesa. Di fatto è il DEC che eh diciamo consente il pagamento poi dei vari SAL alle imprese. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione eh effettuata in termini di quantità e qualità quindi è lui che dà il via rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e comunica l'accertamento al al RUT. Resta ferma la facoltà dell'esecutore sempre di presentare contestazioni scritte in occasione di pagamenti qualora ovviamente pensate non viene riconosciuta una prestazione viene degurtata eh insomma ci sono tante casistiche ovviamente che riguardano i rapporti contrattuali e c'è sempre la possibilità da parte dell'esecutore di scrivere riserve eh in questo caso. Direttore dell'esecuzione poi naturalmente eh verifica abbiamo visto con una sorta di controllo eh le prestazioni eh soprattutto nella fase finale quindi a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni quindi sono eh praticamente finisce l'esecuzione della prestazione l'esecutore comunica di avere ultimato le prestazioni in questo caso il direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da questa comunicazione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con eh lo stesso eh esecutore eh e nei successivi poi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni quindi il direttore delle prestazioni eh che eh elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni che non è poi il certificato di regolare di esecuzione che aspetta al RUP e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore quindi è semplicemente diciamo il eh diciamo la certificazione che è vero sì è vero sono state ultimate le prestazioni poi come sono state ultimate se diciamo queste eh la valutazione supera diciamo il giudizio positivo dell'amministrazione questo è eh è riservato ovviamente alla fase successiva di verifica della regolarità delle 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 prestazioni la verifica di conformità effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto tranne i casi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità quindi eh diciamo in generale la verifica di conformità effettuata anche dal direttore dell'esecuzione del contratto tranne i casi in cui ci siano particolarmente eh prestazioni particolarmente complesse sotto l'aspetto tecnico eh quindi o eh richiedono competenze particolari per quanto riguarda la verifica della funzionalità facciamo un riepilogo a questo punto poi facciamo una una breve pausa di rapporti appunto tra DEC e RUP quindi in sintesi nel rapporto con il RUP il DEC innanzitutto rispetta le disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP quindi il rapporto ripeto è funzionale ma c'è una sorta di 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 sovraordinazione del RUP rispetto al DEC per cui il DEC deve rispettare le disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP deve presentare periodicamente a RUP un rapporto sull'andamento del contratto deve inviare a RUP una relazione per la proposta di varianti o modifiche al contratto quindi interviene nelle varie fasi contrattuali deve comunicare a RUP le contestazioni in sorte in fase di esecuzione in caso di ordine di servizio impartiti direttamente dal RUP che secondo il DEC pregiudicano la regolare esecuzione del contratto quest'ultimo comunica le ragioni motivate del proprio dissenso ecco qui sono quei casi in cui può verificarsi c'è un cortocircuito o se volete una mera diversità di vedute tra il RUP e il DEC e allora in questo caso se il DEC non è d'accordo con il RUP e allora deve comunicare per iscritto ovviamente le ragioni motivate del proprio dissenso deve informare costantemente comunicare a RUP tutti gli ordini di servizio emessi appunto da lui dal DEC deve inviare a RUP i processi verbali di accertamento dei fatti entro cinque giorni dalla data di redazione quindi costante informazione del RUP da parte del DEC continuiamo questa carrellata sintetica redige il RUP relazioni diciamo su varie circostanze perché poi il RUP per essere informato può anche chiedere relazioni appunto su varie circostanze relazioni ad hoc quindi anche su varie circostanze invia a RUP i certificati per il rilascio da parte di quest'ultimo di copia conforme degli stessi all'impresa esecutrice segnala a RUP tempestivamente eventuali ritardi disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali quindi attenzione a questo aspetto che è fondamentale anche ai fini dell'applicazione delle penali o per la risoluzione del contratto procede poi all'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni fornite da RUP quindi nelle varie fasi è sempre il DEC che si occupa di fatto eh di tutta la filiera dell'esecuzione del contratto segnala a RUP le eventuali violazioni dell'impresa in materia di subappalto comunica immediatamente a RUP eventuali riserve con trasmissione entro dieci giorni di apposita relazione e poi fornisce a RUP l'ausilio necessario per l'approvazione delle varianti e delle modifiche del contratto vedete si tratta di attività eh rilevanti corpose perché effettivamente il DEC generalmente entra in gioco quando l'appalto è di una certa rilevanza quindi abbiamo visto che eh il limite più importante è quello dei cinquecentomila euro fermo restando che anche al di sotto di questa cifra abbiamo visto diciamo anche per ragioni organizzative può individuarsi appunto una ragione per eh per nominare un 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 DEC ma eh sono tanti diciamo i compiti sempre in stretta interrelazione eh con il RUP il compito diciamo però trasversale principale è quello di verifica no del costante della corretta esecuzione del contratto questo è è di fatto quindi è l'avamposto il DEC dell'amministrazione per quanto riguarda gli appalti di fornitore e servizi per quanto riguarda la verifica della corretta esecuzione del contratto. Incentivi quelli che sono gli incentivi per le funzioni tecniche no? Quindi vediamo eh la previsione appunto dell'articolo centotredici del decreto del quale del quale prevede che le amministrazioni agiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento modulate sull'importo dei lavori e la novità è servizi e fornitore perché prima gli incentivi per funzioni tecniche erano previsti soltanto per i lavori invece adesso anche per servizi e fornitore posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse stazioni appaltanti esclusivamente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contatti pubblici eh di RUP di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità di collaudatore statico come necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto dei tempi e costi prestabiliti quindi vengono premiati e questo è un premio diciamo per eh perché a differenza degli altri istituti contrattuali non viene corrisposto per lo svolgimento di prestazioni ulteriori no rispetto a a quelli previsti no dal per esempio lo straordinario no eh ma sono incentivi che vengono appunto ehm corrisposti eh diciamo per eh nell'ambito dell'orario di servizio per lo svolgimento anche se potete di quelle che sono attività ordinarie e quindi eh rientra diciamo nella nella caratteristica del premio diciamo per i eh per i dipendenti eh sono come noto escluse le funzioni di progettazione quindi anche per i lavori pubblici eh dal novero diciamo del eh delle delle attività che vengono appunto incentivate che sono soggette all'incentivo quindi tutti eh tutte le figure che si occupano appunto di quella procedura di appalto hanno diritto eh secondo le modalità stabilite dall'amministrazione e lo vedremo alla corrisponzione appunto di questi eh incentivi nella misura non superiore al due per cento del valore complessivo dell'appalto. L'articolo centotredici comma due del eh decreto di arrivare 50 del 2016 prevede attenzione che la disposizione di quel presente comma quindi vale a dire eh quello che abbiamo visto prima no quindi la l'attribuzione di incentivi per lo sorgimento di funzioni tecniche si applica agli appalti relativi a servizi o fornitore nel caso in cui è nominato il direttore poi vedremo anche diciamo le altre condizioni ma una condizione basilare negli appalti relativi a servizi o fornitore che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. La nomina DEC è quindi condizione indispensabile per il riconoscimento degli incentivi a tutto il personale tecnico e amministrativo della stazione appaltante che presti attività per la realizzazione dell'appalto. Quindi questa è una è una condizione diciamo indispensabile proprio per aversi la liquidazione degli incentivi per lo sorgimento delle funzioni tecniche. Solo nei casi in cui il DEC non coincide con il RUP pertanto sarà attivabile il riconoscimento degli incentivi. Quindi eh innanzitutto diciamo questo è la eh è il primo effetto no? Quindi solo quando viene nominato il DEC eh con eh diciamo eh e questa figura non coincida con il RUP sarà attivabile il riconoscimento degli incentivi. Negli appalti aggiudicati con un'unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento rispettivo importo. Quindi qualora ci sia una una gara con suddivisione in lotti e allora il fondo eh incentivante eh diciamo il due per cento viene ripartito ovviamente in proporzione per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo e questa è una indicazione recente che ci deriva dalla Corte dei Conti Lombardia sezione di controllo con la delibera ventinove del quindici marzo duemila ventuno. Sempre a proposito degli incentivi l'articolo cento tredici comma e del decreto ordinativo cinquanto del duemila sei prevede che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma due quindi è necessario costituire il fondo diciamo per la ripartizione del due per cento ripartita per ciascuna opera o lavori servizi forniture con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Attenzione sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma due cioè tutti quei soggetti che si occupano di tutti 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 gli adempimenti che riguardano gli appalti nonché tra i loro collaboratori quindi anche tra il personale che supporta diciamo queste figure tecniche no quindi per esempio il personale amministrativo quindi attenzione perché occorrono queste due condizioni che ci sia la diciamo il fondo per la ripartizione degli incentivi tecnici e che sia stabilito diciamo la ripartizione sia stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa ma sulla base di un apposito regolamento adottato dalle singole amministrazioni e quindi che indica poi diciamo la ripartizione appunto di questo quindi attenzione perché questi sono elementi condizioni indispensabili per potersi avere l'erogazione degli incentivi la corrisponzione incentivo è disposta dal dirigente ai dirigenti non si applicano diciamo però gli incentivi previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti quindi viene corrisposto dal dirigente l'incentivo ma previa verifica delle attività svolte dai dipendenti gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno però attenzione al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo anno lordo quindi attenzione perché c'è questo limite di carattere generale quindi non possono superare questi incentivi l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo anno lordo quindi c'è questo limite anche finanziario vediamo questa domanda può prevedersi l'erogazione degli incentivi in caso di affidamento diretto cioè è possibile l'erogazione degli incentivi nel caso di affidamento diretto diciamo delle del abbiamo visto che diciamo la condizione indispensabile è che sia nominato un DEC no abbiamo visto che il DEC viene nominato obbligatoriamente nei casi in cui gli appalti di importo superiore ai 500 mila euro altrimenti coincide con il RUP e quindi non spetta eh l'incentivo ma ci sono tutta una serie di condizioni per i quali anche sotto questi 500 mila euro è possibile nominare il DEC quando si tratti di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico ovvero innovativi o anche per ragioni organizzative e questo lo decide eh l'amministrazione quindi questo deve essere contenuto poi nel regolamento che è un'altra condizione indispensabile per potersi avere poi l'erogazione degli incentivi così come indispensabile la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi ma in caso di affidamento diretto è possibile quindi nel caso in cui sia stato nominato un direttore di esecuzione del contratto sotto i 500 mila euro e sotto la soglia diciamo per l'affidamento diretto che oggi è 139 mila euro vediamo la risposta l'incentivo viene riconosciuto secondo le modalità definite nel regolamento interno e in presenza degli ulteriori presupposti di legge tra i quali una gara quindi ci vuole una gara questo è quello che prevede la legge per eh la corrispondizione di incentivi quindi l'affidamento diretto non possono liquidarsi gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche su questo aspetto la sezione controllo della Liguria e della Corte dei Conti con una delibera recente del numero 59 del 12 aprile 2021 ha precisato che la disciplina di deroga introdotta dall'esposto articolo 1 del decreto legge 76 del 2020 non modifica naturalmente la lettera dell'articolo 113,2 del decreto legge 50 del 2006 che continua a richiedere riferimento ad una gara o quantomeno come precisato dalla giurisprudenza contabile ad una procedura comparativa quindi andiamo a vedere nello specifico che significa diciamo questa cosa che significa gara che significa procedura comparativa l'esperimento di una procedura comparativa presuppone un importo da porre a base di gara necessario nella forma quantomeno dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale strutturata sul modello disciplinato dall'articolo 36,2 lettera B del decreto legislativo 50 del 2016 quindi una procedura negoziata prevista dall'articolo 36,2 lettera B del decreto legislativo 50 del 2016 dove si invitano un numero limitato di operatori economici almeno 5 ma questi 5 diciamo svolgono tra di loro una procedura concorrenziale vera e propria con il prezzo più basso o con l'offerta economicamente più vantagliosa quindi sì è possibile prevedere l'erogazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche anche quando la giudicazione venga effettuata all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36,2 lettera B del decreto legislativo 50 del 2016 tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente quindi la stazione appaltante alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati quindi al contenuto più o meno complesso che può essere il caso dell'offerta economicamente più vantaggioso il caso del prezzo più basso secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare negando tale evenienza nelle procedure per i lavori in amministrazione diretta quindi diciamo il la condizione minima essenziale per aversi una gara e che quantomeno questa gara si svolga con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36,2 lettera B del decreto legislativo 50 del 2016 diverso a questo proposito è il caso della richiesta di preventivi perché la richiesta di preventivi non rientra nella nozione di gara ma bensì nella fattispecie dell'affidamento diretto quindi attenzione perché diciamo abbiamo detto che ci vuole la gara la gara sarà ovviamente una procedura aperta nelle varie forme individuate dal codice degli appalti dove c'è massima pubblicità della gara ma anche una procedura negoziata no dove laddove c'è un prezzo a base d'asta laddove ci sono dei criteri di aggiudicazione che possono essere o il criterio del prezzo più basso oppure anche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si attiva un confronto concorrenziale dai partecipanti è ancorché limitato semplicemente ai partecipanti che possono anche essere soltanto il minimo di cinque operatori economici diverso invece è il caso della richiesta di preventivi che non rientra nella nozione di gara ma bensì nella fattispecie dell'affidamento diretto e solo attenzione perché spesso si pensa che i preventivi sono una gara non sono una gara nemmeno un confronto concorrenziale ma è una modalità della fattispecie dell'affidamento diretto quindi vedete il consiglio di stato l'ha detto chiaramente la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi possono essere due tre cinque e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori anche laddove è indicato che il prezzo più basso avrà la logisticazione non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara ne abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze quindi vedete una sentenza anche recente del consiglio di stato il 23 aprile 2021 molto importante perché ci ha dato questa precisazione ci consente di delimitare l'ambito di applicazione proprio della corrisponzione degli incentivi quindi la sentenza giunge alla considerazione che un affidamento diretto seppure preceduto da avviso per la presentazione dei preventivi non può ritenersi una procedura di gara quindi ricapitolando che cosa quali sono gli elementi per potersi avere la corrisponzione incentiva sono molteplici per quanto riguarda l'affidamento di servizi e forniture è indispensabile la nomina del DEC che deve essere un soggetto diverso dal RUP è indispensabile la costituzione di un fondo per la ripartizione del 2% appunto del valore complessivo dell'appalto alle varie figure professionali che sono occupate dell'appalto stesso è indispensabile il regolamento adottato da parte dell'amministrazione per poter erogare gli incentivi regolamento che deve essere poi seguito dalla contrattazione decentrata integrativa dove vengono stabilite poi le modalità effettive di corrisponzione degli incentivi si deve trattare di una procedura di gara questo lo prevede la legge che significa procedura di gara significa quantomeno ho una procedura aperta oppure quantomeno una procedura negoziata aperta al confronto concorrenziale di almeno cinque operatori economici queste sono le condizioni per aversi la liquidazione degli incentivi vediamo questa domanda sempre sul tema degli incentivi l'appalto prevede in generale per le pubbliche amministrazioni la riserva o l'accantonamento delle cifre relative agli incentivi previste per le figure di RUP DEC e assistenti DEC cosa succede se l'amministrazione non ha ancora varato il regolamento attuativo l'incentivo previsto nel quadro economico sarà saldato agli aventi diritto quindi magari abbiamo una parte no nel quadro economico dell'appalto abbiamo anche la previsione del 2% a titolo di incentivo nel che sarà corrisposto appunto a a coloro il personale che ha partecipato alla a quella a quella a quella gara quell'appalto e ma cosa succede se l'amministrazione pur avendo previsto nel quadro economico diciamo questi incentivi non ha ancora varato il regolamento attuativo sarà saldato comunque questo incentivo oppure no che cosa succede vediamo le condizioni per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui è l'articolo 113 del decreto legislativo 50 del 2016 sono la costituzione di apposito fondo comma 1 e l'emanazione di apposito regolamento poi abbiamo visto ci vuole la gara e deve essere stato nominato il direttore di esecuzione del contratto l'obbligazione dell'ente nei confronti del personale incentivato si costituisce nel momento in cui con il relativo regolamento dell'amministrazione vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività in base all'articolo 113 del codice dei contatti pubblici danno luogo alle incentivazioni ivi previste in relazione ai singoli appalti di lavori servizi e forniture quindi il momento in cui sorge l'obbligazione con fronte del personale incentivato è l'adozione del regolamento da parte dell'amministrazione attenzione a questi passaggi in presenza di accantonamenti già effettuati nelle more di approvazione del regolamento quindi l'ipotesi vi ho detto indicazione previsione il quadro economico del 2 per cento ma mancanza del relativo regolamento che fine fanno diciamo questi accantonamenti allora in questi che in questo caso senza eh diciamo l'approvazione del regolamento in questo caso l'impegno di spesa dovrà essere assunto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento anche per attività svolte in precedenza quindi ha un effetto retroattivo eh diciamo la la l'approvazione del regolamento con l'unico limite di quelle le spese diciamo relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell'adozione del regolamento stesso e questa è una una pronuncia che ha fatto chiarezza della corte dei conti sezione controllo con la delibera 320 del 7 novembre 2019 quindi attenzione c'è la previsione del quadro economico manca il regolamento che cosa succede che eh fine fanno diciamo questi fondi saranno persi no non saranno persi a patto che prima del termine della ehm dello svolgimento della gara si eh attivi diciamo la eh la il regolamento cioè nel momento in cui diciamo viene viene attivato scusate viene al termine esecuzione il contratto anche svolgimento della gara esecuzione del contratto qualora diciamo ci sia eh uno l'approvazione del regolamento allora questa approvazione ha effetto retroattivo per cui questi incentivi possono essere corrisposti eh anche retroattivamente per tutte le funzioni che sono state svolte in questo frattempo questa è una appunto decisione della 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 corte dei conti nel caso eh poi che eh ci sia l'affidamento dell'appalto alla CUC quindi alla centrale unica di committenza quindi nel caso in cui si proceda eh con l'affidamento alla alla CUC questo affidamento non può dirsi di per sé preclusivo a riconoscimento eh di eh di incentivi per le funzioni tecniche sicché può ritenersi ammissibile ed in linea con il vigente panorama legislativo il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui al citato articolo centotredici in capo al direttore dell'esecuzione del contratto purché appositamente nominato questo è bene sempre eh ricordato e previo esperamento esperimento a monte di una gara d'appalto anche nell'ipotesi in cui l'ente si è avvalso per eh l'espletamento la gestione eh si è avvalso eh per l'esperamento la gestione delle procedure ad evidenza pubblica della centrale unica di committezza quindi della della CUC quindi spetta sempre diciamo l'incentivo l'unica particolarità è che una parte diciamo di questi incentivi dovrà essere corrisposta a chi si è occupato quindi al RUP della CUC quindi che eh si è occupato diciamo del RUP e anche le altre figure che hanno svolto poi la procedura di appalto quindi la particolarità è data dal fatto che una percentuale di quel due per cento dovrà essere riconosciuta alla eh centrale unica di committenza e questa è una precisazione data dalla Corte dei Conti sezione di controllo a Lombardia con la deliberazione del dodici ottobre del duemila venti veniamo al nostro caso io vi leggo il caso poi lascio a voi la parola quindi è una piccola anticipazione anche di quello che che faremo diciamo in presenza quando quando ci vedremo per affrontare appunto questi questi casi l'articolo settantasette comma quattro del decreto legislativo cinquanta del duemila sedici stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione e e o incarico tecnico eh o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta quindi questa è la previsione dell'articolo settantasette comma quattro quindi parliamo ovviamente di gara effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui ci deve essere la nomina dei commissari di gara abbiamo visto l'altra volta il caso del RUP no ma anche molto controverso cioè il RUP può essere nominato nella commissione di gara alcune sentenze dicono di sì altre sentenze dicono di no insomma e quindi la cosa ci lascia eh diciamo comunque un po' nell'incertezza quindi dobbiamo vedere caso per caso eh se è possibile eh o meno questa questa situazione con una visione differente da parte della giurisprudenza nel caso del DEC che cosa succede quindi nell'ambito il caso è nell'ambito dell'impugnativa di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi si lamenta un error nella composizione della commissione per la presenza di un soggetto che successivamente è stato designato quale direttore esecutivo del contratto ne risulterebbe pertanto violata la previsione di cui ha l'articolo 77,4 del decreto di statico 50 del 2016 tale situazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione quindi è chiaro il caso no è semplice c'è un eh soggetto in questo caso non il RUP ma il DEC diciamo un soggetto che ha fatto parte di una commissione successivamente invece è stato poi nominato come direttore di esecuzione del contratto questa situazione viola la previsione di cui ha l'articolo 77,4 del decreto di statico 50 del 2016 l'articolo 77,4 vediamo sopra stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta quindi questa situazione diciamo così come vi ricordo poi che la norma prevede che il RUP a RUP non è precluso di partecipare in linea di principio eh alla 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 commissione di gara nella gara effettuata con il criterio di offerte con ovviamente più vantaggiosa ma semplicemente eh si deve valutare caso per caso l'amministrazione deve valutare caso per caso se sia compatibile la partecipazione del RUP alla commissione con diciamo l'attività appunto di RUP e eh abbiamo visto l'altra volta soprattutto la giurisprudenza sa quando il RUP ha eh predisposto gli atti di gare allora non può andare eh si verifica una automatica incompatibilità per cui non può andare poi a diciamo a giudicare eh quello che in effetti con le regole che lui stesso ha ha previsto attraverso la predisposizione degli atti di gara ma questa giurisprudenza abbiamo visto è molto eh oscillante e la stessa cosa ce l'abbiamo anche con il DEC oppure addirittura abbiamo una situazione più eh diciamo più rigida nel senso che eh illegittima diciamo la partecipazione alla commissione oppure eh diciamo non è eh ostativa diciamo la partecipazione del DEC allora l'eccezione non può essere accolta quindi diciamo eh come giustamente è stato eh rilevato in precedenza non eh comporta questa situazione eh la eh addirittura l'illegittimità della giudicazione ma vediamo perché perché è molto interessante fermo restando infatti che il direttore esecutivo del contratto esplica le proprie funzioni essenzialmente nella fase esecutiva dell'appalto la disposizione di cui ha richiamato articolo settantasette comma quattro secondo cui come si è detto i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta potrebbe al più comportare la preclusione al conferimento dell'incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara ma non può correlativamente comportare la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo quindi esattamente diciamo eh quello che eh ha riferito diciamo il vostro collega con questa motivazione importante proprio perché al più diciamo è vero che la legge dice ma eh non non possono essere assegnate ma questo non può incidere perché la legge non lo prevede sul momento dell'aggiudicazione della gara quindi non può comportare l'annullamento dell'aggiudicazione della gara perché si andrebbe eh ultralegge ma al più può comportare la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo e quindi incide solo sulla eh esecuzione del contratto certo questa situazione di illegittimità può comunque portare le conseguenze no? Eh pensate al valore delle contestazioni poi fatte da chi in effetti non ha eh diciamo eh ha una nomina che non è legittima e eh diciamo è contraria a quella che stabilisce l'articolo settantasette comma quattro ma non può addirittura arrivare a determinare la illegittimità dell'atto di aggiudicazione della gara e questa è una eh diciamo eh la giurisprudenza che afferma diciamo questo questo principio per cui eh abbiamo una situazione fortunatamente molto più chiara rispetto alla situazione del gruppo quindi eh la partecipazione di un soggetto che poi eh sarà individuato eh come DEC non eh produce la eh diciamo l'illegittimità dell'atto di aggiudicazione del provvedimento di aggiudicazione della gara quindi questo eh salva diciamo la procedura hm diciamo fermo restando che possono esserci comunque delle conseguenze sulla parte esecutiva del contratto quindi è buona regola diciamo che quando un soggetto ha partecipato alla commissione di gara non svolga poi successivamente le funzioni anche di DEC.